Episodio 38 di Angular, oggi vediamo, essendo il penultimo video di questo corso, salvo aggiornamenti eventuali, come creare una dashboard in Angular. Quindi andiamo a fare la nostra single web application e andiamo a fare qualcosa di un po' più ben strutturato. Per ora abbiamo visto solo pezzi singoli. Considerate questo video un esercizio, quindi lo fate insieme a me. La prima parte vi faccio vedere come raggiungere quell'effetto dashboard che spesso utilizzerete quando lavorerete con Angular. Quindi io vi guido fino a lì. Da lì in poi le varie migliorie o l'aggiunta dei pezzi tipo login, la registrazione che abbiamo già fatto, lo potete integrare voi. Ok? Quindi vi faccio vedere come strutturare il layout dei componenti, il routing, eccetera, eccetera. E poi da lì in poi dovete utilizzare quelle che sono le vostre competenze per andarla a sistemare e in realtà farla come volete. Quindi io vado a creare quella che è la base proprio minima necessaria, su cui poi in realtà potete tranquillamente salvarvi il progetto, clonarlo più volte e da lì potete ripartire ogni volta. Quindi questa è l'idea per farciò. Aprite start e scrivete node command prompt. Lo aprite, vi comparerà la solita finestra. E qua andiamo a fare cd desktop, ok? Poi dobbiamo andare cd su corsi sviluppo. E da qua faccio ng new, vado a creare un nuovo progetto, ng new e lo chiamo lezione 38 ng, che sarebbe per Angular, va bene? Io faccio così, faccio invio e adesso comincio a chiederci vuoi l'angular routing? Assolutamente sì. Che cosa vuoi usare? CSS, s, CSS, va bene CSS. Aspettiamo che installi tutti i pacchetti, ci vuole un po', quindi faccio un taglio adesso. Perfetto, ha già finito. Quindi adesso andiamo a fare cosa? Code e che cosa apriamo? Dobbiamo aprire lezione, vediamo un po', esatto. Se voi non avete il comando code, semplicemente aprite Visual Studio Code e lì dentro aprite la cartella. Vi faccio così, automaticamente me lo apre e abbiamo il nostro progettino. Dunque la lista di cose da fare è abbastanza grande. Cominciamo con Angular Material. Perciò prendiamo il browser, andiamo qua e facciamo Material, get started, ng add at Angular Material. Quindi andiamo qui, facciamo Control, ho accentata, incolliamo, invio. E adesso abbiamo Angular Material. Vogliamo sì, voglio fare yes, molto bene. Deve installare altri pacchetti, ma è abbastanza veloce. Dobbiamo scegliere il tema, in Dingo Pink va bene. Typography, yes, include and enable animations, let's go, mi va bene, importante per quello che andremo a fare. E abbiamo installato con successo Angular Material. Ora, cominciamo dal principio. La prima cosa che possiamo fare è ng serve, quindi facciamo già partire l'applicazione e apriamo un'altra finestra di browser. Dunque, come la andiamo a strutturare? Abbiamo la nostra app, giusto? Abbiamo il nostro app component e questo qua è il placeholder. E a noi non interessa. Perché? Perché qua dentro andremo a cambiare il route. Quindi abbiamo bisogno di router outlet, va bene? Non entro proprio nel dettaglio della spiegazione, ok? Cioè vi spiego quello che facciamo, ma quello che facciamo in realtà sono cose che ho già spiegato. Vi spiego il motivo per cui lo facciamo, ma non cosa stiamo facendo. Quindi il nostro app component avrà semplicemente tanti link, tante pagine, tanti componenti che andrà a cambiare. Quindi sarà semplicemente un contenitore per sign in, sign up, quindi logistazione, login e la dashboard. La dashboard sarà sempre fissa con la sidebar laterale, ma avrà tante pagine all'interno che cambiano e quelli sono i children, ok? Quindi utilizzeremo questo tipo di struttura. Adesso andiamo a creare una cartella components o componenti, non è un problema, io la chiamo componenti. Eccoci qua. E dobbiamo creare un po' di componenti. Quindi dobbiamo creare il login, la registrazione, la dashboard e facciamo tre pagine della dashboard, va bene? Quindi ng generate component in componenti, componenti, slash, potete chiamarlo login e register, sì facciamo così che preferisco assign in, sign up. E poi vogliamo mettere qua una cosa che non vi ho mai insegnato, che è skip tests uguale true. In questo modo non... Oh ho fatto skit, porca miseria. In questo modo non ci genera il file spec. Guardate un po', vi faccio vedere. Ecco qua, ci ha creato il componente login e vedete che non abbiamo il file spec. Stessa cosa, da login facciamo register. Quindi bam, molto bene. Io tendo a creare subito tutti i componenti che penso mi serviranno a breve, giusto per una questione di ordine mentale. Voi fate quello che volete, questo è il mio modo di lavorare, voi fate quello che preferite. Poi dopo register abbiamo detto che ci vuole la dashboard, che è la dashboard effettiva, quindi la pagina principale. Molto molto bene, eccola qua. Dopodiché vogliamo tre pagine della dashboard. In questo caso sono solo di prova. In questo caso voglio creare item 1 oppure pagina 1. Facciamo pagina 1. Let's go. Pagina 2 e pagina 3. Quindi andiamo qua, facciamo pagina 2. Ecco qui. E poi abbiamo pagina 3. Ok. Abbiamo tutti i nostri componenti, se io li apro. Abbiamo già quella che è la nostra struttura. E questa sarà quella che utilizzeremo. Adesso, se andiamo su 4200, vedete che non c'è niente. Ok? Non abbiamo niente perché abbiamo un router outlet, ma il routing non è ancora impostato. Perciò, cominciamo dalla base. Andiamo su uprouting. Eccoci qua. Abbiamo i nostri routes. E qua dentro cominciamo con la prima cosa, ovvero un bel path sul vuoto. Ok? E che componente vogliamo? Vogliamo come component la dashboard. Ok? Quindi la pagina principale sarà sempre la dashboard. Più avanti avremo i children. Andiamo a fare altre pagine. Vogliamo fare la pagina di login e di register. Quindi login e register. Perfetto. Qui ne abbiamo login component. Molto bene. E poi abbiamo register component. Salvo. E vedete che ci ha creato dashboard works. Zoom un pochino. Abbiamo dashboard works. Se andiamo su slash login ci manda su login works. Se abbiamo register ci manda su register works. Perfetto. Adesso potremmo già fare tutti gli altri routes, i vari children eccetera. Ma voglio cominciare dalla grafica. Voglio cominciare ad avere un po' di grafica. Qua poi settiamo tutti i path. Giusto per capire. Perché se no sono pagine vuote. Non si capisce bene dove stiamo andando. Motivo per cui. Prendiamo angular material. Angular material. Eccoci qua. Components. E dobbiamo cominciare a preparare tutto. Quindi direi che possiamo cominciare dai form. Che non vedo. Eccoli qua. Cominciamo dai form. Prendiamo gli API. E cominciamo ad installare tutto. Perciò apriamo app module. Qua abbiamo tutti i vari componenti. Facciamo un po' di spazio qua. Qua c'è app component che tiro giù. Benissimo. E qua comincio a mettere i moduli. Perciò andiamo qua. E cominciamo a inserire i moduli che sappiamo che ci interesseranno. Mat form field. Ma vi dico già di mettere form module. Form. Forms module. E poi reactive form module. Vi dico di metterli entrambi perché. Perché in modo che se volete usare template driven form o i reactive form avete già tutto. E non dovete preoccuparvi di avere errori. Quanto altro più che altro. Perché a volte ng model non vi compare se non avete form module. Oppure i form group se non avete reactive form. Ed è facile dimenticarsene e non capire perché dà errore. Quindi fatelo subito che è meglio. Io salvo. E cominciamo. Prendendo un form a caso. Facciamo una cosa molto banane. Mi serve un input semplicissimo. Questo qua. Voglio questo input. Facciamo così. Andiamo su login. Prendiamo login component qua. E andiamo a fare tac. E poi facciamo tac così. Molto bene. Andiamo qua. Mettiamo tutto in un form. A cui diamo il nome di login form. E lo chiamiamo come ng form. Queste cose le sapete già. E poi facciamo ng submit on submit. Perfetto. Prendiamo questo form qua. Andiamo qui. E poi qua dentro dobbiamo prendere il button. Quindi ci serve il button. E dobbiamo copiare questo. Andiamo ad inserirlo in app module. Eccoci qua. Copiate il button module. E lo importiamo. Perfetto. Mettiamo la virgola. Salviamo. E adesso possiamo prendere il bottone da qua. Perciò vediamo qua. Un primary normale. A me sta più che bene. Andiamo qui. E dobbiamo mettere on submit. Sul ts. Eccoci qua. On submit. E noi per ora salviamo. Che cosa manca? Manca da mandare qua il login form in submit. Che ci dà problemi. Perché? Perché qui non prendiamo niente. Quindi prendiamo il nostro form. Che è un ng form. Perfetto. E qua dentro abbiamo solo email e password a sto giro. Quindi const email uguale form punto value. Se vi ricordate punto email. Copiamo. E poi qua facciamo la password. Molto bene. E questa è la password. Ok. E poi qua andremo a chiamare l'out service. Quindi qua vi scrivo chiamare out service. In realtà forse dopo lo faccio io. O lo fate voi. Vediamo. Sicuramente non vado a fare tutta la parte di login e registrazione. Quello che mi interessa è almeno inviare il form. Quindi salviamo qua. E invece qui nel form cosa manca? Ve lo dico subito. Mancano sugli input un type. Uguale type email. Perfetto. Devo chiudere qua questo. Che mi ha tolto qua. Poi mettiamo required. E voglio mettere anche ng model. E poi anche il name. Magari facciamolo prima. Come name andiamo a mettere email. Perfetto. Mentre invece qua sotto. Come input direi che possiamo copiare tutto. Quindi copiamo tutto. E mettiamo type password. Name password require ng model. E poi vogliamo andare a fare un'ultima cosa. Innanzitutto mettere qua type uguale submit. Let's go. E poi andiamo a fare un bel property binding. E mettiamo che è disable. Se è il contrario di login form. Ups non così. Vabbè avrei dovuto mettere la F maiuscola ma pazienza. Login form punto valid. Quindi il contrario è is invalid. E qua mettiamo invia. Salviamo. E se andiamo su login. Il risultato è entusiasmante direi. Ci manca solo una cosa per far capire che è login. Noi facciamo h1 login. Perfetto. Copiamo la stessa roba in registrazione. Quindi togliamo questo. Andiamo su register. Andiamo qua. Facciamo la stessa cosa. Facciamo register. Ricordatevi di cambiare quanto meno questo. Register form. E poi vi passate register form. E register form. Possiamo chiudere questo. Copiamo on submit. E andiamo a farlo anche su register. Questo è css. Quindi non va bene. Register. E noi qua andiamo a metterci on submit. Abbiamo qua un problema. Correzione rapida. Importa form. Ng form da angular forms. Noi salviamo. E abbiamo completato almeno questa parte. Quindi abbiamo il nostro login. E la nostra registrazione. Perfetto. Adesso spostiamoci sul, non sull'app component, ma ci spostiamo sulla dashboard. Perché dobbiamo cominciare a creare la dashboard con la barra laterale e la toolbar. Quindi dashboard. Apriamo, apriamo e apriamo. Possiamo togliere app module. No, ci serve. Torniamo qua. Andiamo su angular material. E andiamo a prenderci la side nav. Eccola qua. Innanzitutto API. Prendiamo e l'importiamo. Come avete già imparato a fare. Quindi ci mettiamo qua. Side nav fatto. Prendiamo, scendiamo, incolliamo, salviamo. Poi, next step. Dobbiamo prendere una side nav. In questo caso il basic drawer va più che bene. Basic side nav. Mi piace questa qua, vedete? Prendete questa parte qui. Should run, chi se ne frega perché lo togliamo. Questa parte qua non ci interessa. Ci interessa solo il CSS. Perciò dashboard. Facciamo così. Togliamo questo. Perfetto. Salviamo. Prendiamo il CSS. E copiamo il CSS. E lo incolliamo qua dentro. Salviamo. E se andiamo qua sul vuoto. Vedete che abbiamo già la divisione. Chiaramente qua è un po' più zoomato. Rispetto a come ce l'avrei io. Potete farla più larga. Non è un problema. Assolutamente. Io la mantengo così per farvela vedere. Adesso lavoriamo su questa parte qua. Cominciamo a lavorare sul menu. E per farlo. Dobbiamo tornare qui. Sareste tentati di andare su menu. Vi faccio vedere. Sareste tentati. Ma qua i menu vengono aperti esclusivamente con il trigger. Ok. Potremmo fare sto sgamo. E avere questa cosa già fatta. In realtà noi utilizzeremo le list. Vedete le list. E poi dovete semplicemente col CSS andare a dire. Ok. Quando passi sopra. Mi. Chiaramente mi cambi il background leggermente. Mi metti la mano per far vedere che è un link. Eccetera eccetera. Ok. In questo caso noi ci limitiamo alle liste. Poi ve le sistemate voi. Andiamo qua. App module. E noi inseriamo anche questo. Lo prendiamo. Andiamo qua sotto. Salviamo. Perfetto. Vuol dire che possiamo tornare qua. Examples. Basic list. Guardate quante liste belle che avete. Questa è stupenda. Mi piace un sacco. Bella anche questa. Stupenda. E poi direi che possiamo prendere quindi questa qua. L'html. Ok. Il TypeScript non ci interessa. Copiamo questa. E andiamo nella nostra dashboard. e dove c'è side nav content. Chiudete. Aprite. E qua dentro andate a scrivere pagina 1. Pagina 1. Poi pagina 2. Pagina 3. Ok. Salviamo. E il risultato è il seguente. Va bene? Un menu bruttino. Ma fa la sua figura. Adesso dobbiamo lavorare sul main content. Perché noi qua dentro. dobbiamo avere che cosa? Dobbiamo avere le varie pagine. E le varie sottopagine sono in realtà dei children. Ok. Quindi. Questo è il main component dashboard. Ma il dashboard ha dei sottocomponenti. Che sono la pagina 1. Che sarà qua dentro. La pagina 2. E la pagina 3. Perciò. Dobbiamo tornare su up routing. Che sarà probabilmente questo. Ottimo. E da qui. Che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che abbiamo dei children. Quindi abbiamo dei figli. Children. Perfetto. Apriamo. E qua dentro. Dobbiamo andare a creare degli altri path. Quindi cominciamo. E facciamo le cose più ovvie. Perciò path. E andiamo su pagina 1. Quindi pagina 1. Eh ma non così dai. Facciamo pagina 1. Pagin. Bene. Dopodiché spazio come component. Andiamo su. Indovinate un po'. Pagina 1. Facciamo virgola. E con alt maius. Che freccetta giù. Tiriamo giù due volte. Per fare. Pagina 2. E pagina 3. Vedete come si fanno alla svelta. Molte cose. Il setup iniziale. In realtà. Una volta che lo imparate. Si fa. Veramente veloce. Pagina. In realtà. Ci avevo perso settimane. Le mie prime volte. Ma pazienza. Pagina 3. Noi salviamo. Non è abbastanza. Perché? Perché dobbiamo andare a linkare il tutto. Quindi. Andiamo sulla dashboard. E dobbiamo fare un bel router. Link. Eccoci qua. E mandiamo su pagina 1. Copiate il tutto. Due volte. E scrivete. Indovinate cosa. Pagina 2. E pagina 3. Salviamo. Eccoci qua. Siamo sempre nella nostra dashboard. Ma se premo. Continua a non succedere niente. Perché? Vedete che qua in alto cambia. Siamo in pagina 1. Pagina 2. Pagina 3. Che cosa abbiamo dimenticato? Abbiamo dimenticato il router outlet. Qua dentro. Quindi apriamo. E qua dentro. Vedete dove c'è il content della side nav. Qua dentro dobbiamo mettere un router outlet. Se avete già capito l'errore. State già andando molto molto bene. Salviamo. E il risultato. Vedete. È il seguente. Pagina 3. Pagina 2. Pagina 1. Quindi la struttura iniziale. Del. Dell'applicazione. È già. A buon punto. Che cosa manca? Vi faccio vedere. Se io vado sulla dashboard. Non succede niente. Ma tendenzialmente. Quando voi aprite una dashboard. Un'applicazione fatta così. Abbiamo già qualcosa. Generalmente apre questa prima pagina. L'apre già di default. Quindi abbiamo la nostra dashboard. E nella prima pagina. Magari c'è l'home page. Le notizie. Ok. Quindi automaticamente ce l'apre. Non è che se io vado qua. Ho vuoto. E devo selezionare la prima voce. In realtà. La prima è già selezionata di default. Chiamatela home page. Chiamatela come volete. Ma avete capito il discorso. Quindi dobbiamo andare sul routing. E dirgli che vuoto vuol dire automaticamente pagina 1. Lo sapete fare. Anche se adesso il cervello vi sta esplodendo. E ve lo dico io. Dobbiamo andare in children. Aprire un altro path. In questo caso facciamo myosculpt e vado su. Fatto la stessa cosa. E qua come path metto vuoto. Quindi se è vuoto. Non ci serve nessun component. Ci serve solo un redirect to. Il redirect va a pagina 1. Perfetto. E poi ci manca un'altra cosa che è path match. Che mettiamo come full. Quindi deve capire che è esattamente questo tipo di path. Se è così e non c'è nient'altro. Quindi se è vuoto ci deve rimandare qua. E il risultato è pressoché incredibile. Se io tolgo qua vedete che mi rimanda comunque su pagina 1. Quindi ogni volta che io arrivo sulla dashboard sono su pagina 1. Pagina 2. Pagina 3. C'è un problema. Il primo problema è che io ho qua il mio login. Ho la registrazione. Ma io posso vedere la pagina 1. Come mai? Posso vedere la pagina 1 perché non abbiamo ancora messo can activate. Vi ricordate? Se noi andiamo qua noi vorremmo proteggere tutti questi path. E li vogliamo proteggere con il nostro outguard. Quindi vogliamo dire se sei loggato puoi vedere tutta sta roba. Altrimenti finisce automaticamente di qua. Come facciamo? Beh è molto semplice. Facciamo qua una bella virgola. Spazio. Mettiamo can activate. E qua dentro dobbiamo mettere outguard. Ma non ce l'abbiamo ancora. Quindi andiamola a creare. Ci mettiamo qua in app. Creiamo una nuova cartella che chiamiamo out. In cui gestirete tutte le varie cose sull'accesso. E qua dentro andiamo a creare un nuovo file che si chiama out.guard.ts. E in realtà potreste già fare anche il service out. Quindi qua sotto ng generate service in out slash lo chiamate out. Perfetto. Ce l'ha creato. Potevamo fare anche senza lo spec. Non perché non mi piace lo spec ma perché non voglio fare i test. E in realtà togliamo guard così e facciamo ng generate guard. Scusatemi. Ng generate guard che almeno fa tutto da solo. Out out. Non voglio scrivere il placeholder. Ci chiede can activate. Si can activate va bene. E adesso ci ha creato anche la guard. Eccoci qua. Perfetto. Abbiamo già il nostro codice sample. Togliete questa parte qua se vi dà fastidio a sto giro. Non è un problema. E cosa vogliamo fare? Quello che in realtà abbiamo già fatto negli episodi precedenti. Quindi dobbiamo innanzitutto aggiungere un constructor. Constructor. In qui dentro porteremo l'out service che ci servirà scusatemi non dobbiamo far così ma dobbiamo importare private out service due punti out service perché chiaramente avremo bisogno dell'out service e poi lo vedrete a brevissimo. Qua dentro return true non ci interessa non ci interessa perché perché dobbiamo fare un altro controllo. Quindi dobbiamo dire if vi ricordate dis punto out service is logged in che ancora non abbiamo non preoccupatevi is logged in che è una variabile che semplicemente traccia. Se siamo loggati o meno mi ritorni true di conseguenza vuol dire che io posso andare dove? Posso andare su quel path. Altrimenti else dove mi rimandi mi prendi dis router che non abbiamo ancora perciò lo importiamo. Andiamo qui e facciamo virgola private router due punti router invio. E adesso possiamo chiamarlo dis punto router punto navigate. Eccoci qua. E navigate dove andiamo? Andiamo su login. Login. Adesso non mi ricordo se è così o con lo slash onestamente. Non me lo ricordo raga provatelo in entrambe i modi. Quindi abbiamo un problema non c'è logged in perciò dobbiamo aprire il nostro service e dobbiamo andare a creare una semplice variabile is logged in che abbiamo usato anche quando abbiamo reso le cose più complicate con l'accesso però al momento utilizziamo solo questo. Al momento andiamo a prendere sufficiente questo oppure potreste fare un metodo che ritorna is authenticated se volete utilizzare i metodi. È rilevante ma adesso non abbiamo più problemi. Ci manca in realtà solo una cosa abbiamo un altro errore che qua dobbiamo ritornare return false. Ok? Io salvo e se noi come is logged in mettiamo false salviamo. Abbiamo ancora una cosa che manca ovvero se andiamo sul routing dobbiamo mettere questo activate. Dobbiamo aggiungergli l'out guard giusto? Giusto. Adesso salviamo. Vedete che non siamo loggati perciò se ve lo qua ci ha rimandato il login. Vedete? Provo andare sulla dashboard e mi rimanda comunque al login. Provo andare alla registrazione e mi manda la registrazione. Voglio andare sul login mi manda sul login voglio andare sulla pagina 1 ci provo mi rimanda sul login. Ok? Quindi l'unico modo che abbiamo per arrivare alla dashboard è essere loggati e lo sapete fare. Ora mancano alcune cose. Innanzitutto ricambiamo questo a true perché dobbiamo tornare sulla dashboard e vedete che se andiamo qua siamo loggati e possiamo spostarci di pagina. Che cosa manca adesso? Manca tenere traccia dobbiamo fare l'highlight della voce di menu che abbiamo selezionato. Quindi torniamo sulla dashboard dov'è dashboard component html e aggiungiamo router link active e che cosa usiamo? Usiamo la classe active che adesso andiamo a creare. Quindi gli diciamo che se questa voce di menu punta a pagina 1 e pagina 1 è attiva mi metti la classe active. Quindi ricapitoliamo questa voce di menu punta a router link pagina 1. Se siamo effettivamente in pagina 1 ovvero che router link è attivo che cosa mi metti? Mi metti questa classe active. Potete mettere pippo ripeto è un caso che active è active ok? È semplicemente per capirci qualcosa. Copiamo e utilizziamo la stessa classe salviamo prendiamo qua e andiamo a creare questa classe active che avrà semplicemente un background color di cosa di red per fare schifo. Non ci siamo dimenticati di chiudere qua queste mannaggia me quindi salviamo e ci siamo dimenticati un'altra cosa di metterlo tra parentesi quadrate. Perfetto abbiamo dimenticato un po' di roba. Salviamo e adesso vedete che se passo da una all'altra abbiamo effettivamente la voce evidenziata. Io provo ad andare su dashboard normale e vedete che mi torna comunque sulla prima. Perfetto adesso manca un'ultima cosa che è la toolbar quindi voglio una toolbar che è la seguente eccola qua quindi importiamola. Dobbiamo importare un po' di roba allora dobbiamo importare app module e cominciamo con questo poi mettiamo la toolbar e poi importiamo ciò che manca tipo le icone e altre cose salvo. Andiamo sugli esempi e a me va bene la banalissima app questa qua basica voglio solo capire qual è la differenza ok color primary c'è scritto va bene color primary color primary ok non cambia assolutamente niente. Quindi mat toolbar copiamo in ts non c'è niente css va bene adesso lo prendiamo quindi andiamo su dashboard perché la vogliamo sopra tutte le varie pagine o potreste volere addirittura sopra qua quindi dovete dividere dovete metterla addirittura sopra la side ma dipende come volete strutturarla. Io vi do solo questo questo indizio e poi come color mettiamo primary dovrebbe prendercelo. Abbiamo un problema con le icone perciò dobbiamo andare sulle icon ecco qua e importiamo anche icon vedo che bisognava importare un po' di roba e adesso andiamo su app module e importiamo qua le icone quindi io prendo le icone noi siamo qui facciamo così tac. Il risultato è il seguente un po' uno schifo fatemi dezoommare ok manca il flex quindi andiamo qui devo tornare sulla toolbar scusatemi quindi toolbar examples prendiamo questo css copiamo e devo prendere dashboard css buttiamo qua questo. E poi una cosa che non voglio è la scritta my app e l'icona quella là che chiude non mi interessa salviamo e vedete che abbiamo la nostra toolbar con qua i tasti potreste avere qua il tasto di logout adesso lo andiamo a cercare abbiamo qua i bottoni che cambiano la pagina quindi andiamo a cercare tra le icone icon vediamo se c'è la lista direttamente qua no. Andate su font google.com slash icons e le avete tutte e da qua andiamo a cercare log out vediamo un po' eccolo qui log out allora c'è differenza tra i simboli e le icone voi mettete icone copiamo log out questo qua e qua dentro vedete dove c'è share e favorite facciamo log out così se volete farla in basso come discord non è un problema sulla sulla side nav eh. Quindi per intenderci se volete mettere qua log out qua l'utente in basso non è un problema al momento l'abbiamo messo qua in alto ok quindi qua andrete a mettere su long click in questo bottone dovete collegarvi all'out service log out va bene far quello che abbiamo fatto con local storage is not login eccetera eccetera. Quindi qua è tutto a posto per andare a chiudere questa lezione e poi dirvi cosa potreste sistemare voglio solo farvi un esempio con le tabelle ok quindi prendiamo le tabelle potreste lavorarci perché sono molto belle allora abbiamo qua la tabella abbiamo gli api dobbiamo prendere la tabella andiamo qui app module andiamo a mettere la tabella facciamo un po' di spazio mat table module ci spostiamo qua sotto tac virgola andiamo poi a prenderci una tabella questa qua random va assolutamente bene il css ok table width 100 possiamo cominciare qua quindi prendete item 1 non ci interessa più la dashboard ho chiuso tutto vabbè chiudo tutto al diavolo prendiamo pagina 1 non item 1 cominciamo dal css incolliamo chiudiamo apriamo html il typescript. A livello typescript ci serve un po' di roba per i dati poi voi ve li tirerete giù da da firebase cominciamo con l'html che mi piace un pelo di più ci spostiamo su ts da qua html pagina works we salviamo abbiamo dei problemi dobbiamo perciò prendere tutta sta roba non serve che copiate tutto il componente copiate i dati qua la const e l'export interface e poi copieremo questa parte qua sotto quindi andate qua sopra e copiate l'interface che è stata creata adesso ve la spiego e poi la parte sotto ok andate qua e da qua fate così salviamo non da più problemi ed effettivamente abbiamo la nostra tabella che potete tenere full screen oppure se preferite fare come preferisco fare io vi basta un div in questo caso prendiamo una section per fare la svelta prendete una section facciamo così tanto è unica in questo componente quindi poi possiamo andare qua su pagina 1 però magari css e dire che section aprite padding 40 pixel e vedete che adesso è un po' più bello quindi andiamo pagina 2 3 vedete poi torniamo su pagina 1 come funziona questa tabella ve la faccio vedere veloce perché non abbiamo mai parlato delle tabelle in angular material allora la tabella è in realtà composta da column def position name weight che sono quelli che abbiamo qua vedete la stessa cosa e fa riferimento vedete column displayed columns quindi va a prendere le colonne gli header delle colonne da displayed columns quindi dobbiamo avere sicuramente un array di string con i nomi delle colonne dopo che abbiamo il data source che sono i dati effettivi che li prende da element data altro non è che una costante a sto giro va bene quindi ha il data source è semplicemente una costante e questa costante è un array di oggetti basta motivo per cui è in maiuscolo è questo motivo potreste prendere tutto questo array buttarlo qua dentro direttamente potete far arrivare da firebase adesso ci arriviamo però questo element data altro non è che tipo è di tipo periodica tipo periodic table ha semplicemente creato un'interfaccia dove c'è nome position weight symbol quindi vuol dire che ogni valore che io metto qua dentro deve avere per forza avete quindi errore metto position ok metto 11 virgola e poi metto qwerty due punti faccio qualcos'altro e mi da problemi perché perché ha detto che questo element data è formato da un array di oggetti periodica element quindi è formato da un array di periodica element periodica element è un tipo che si è creato lui ed è semplicemente un oggetto con dentro queste quattro cose va bene basta ed è così che funziona e la tabella va a ciclare adesso abbiamo fatto tutto il giro del fumo che a me interessava quindi ricapitoliamo abbiamo visto il login perfetto da qua potete mettere a posto il login potete andare su vai a register se non hai ancora un account da qua dovete farvi spostare sul login che abbiamo già visto negli episodi precedenti arrivate qua sulla sulla dashboard quindi dovete impostare login dovete impostare il logout che fate da questo bottone dovete impostare la registrazione dovete eventualmente crearvi un nuovo progetto firebase vedete questo era quello che ho usato io prima qua ne dovete creare un altro avete già il video sul setup di firebase da qui ah per chi magari sta guardando questo video dal nulla senza aver seguito il corso vi consiglio di guardare il corso in primis ma comunque su firebase vi servirà come servizio l'autenticazione e il real time database questo è il massimo che vi posso dire per il resto guardate gli episodi precedenti perché non è pensato per essere un video stand alone cioè sì se però potete imparare cosa arrivate a fare arrivate a fare questa roba qua se è quello che vi interessa se volete il login e quant'altro ne ho già parlato negli episodi precedenti quindi da qua cosa andate a fare potete cambiare il nome delle pagine potete inserire le pagine che volete e logout se volete mettere il vostro utente qua in basso un'altra cosa che potete fare è prendere i dati effettivamente da firebase quindi potreste crearvi due collezioni di dati la prima magari sui periodic table se volete utilizzare questa e andate a prendere i dati da firebase e soprattutto potreste aggiungere un dei bottoni con aggiungi nuovo elemento e lo inserite voi dalla modal quindi potreste fare una cosa del genere avrete il vostro bottone dove è modal 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 si chiama dialog non modal scusatemi potreste avere una cosa del genere vedete fate aggiungi nuovo nuovo periodic element e qua dentro fate ta 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 ok e lo va ad aggiungere su firebase poi potreste avere qua ci sono ve le faccio vedere sulle tabelle c'è la possibilità di selezionare le varie righe vi faccio vedere su examples se scendete dobbiamo scorrere un po tantino ecco qua vedete potete selezionare tutte potete selezionarla solo una sarebbe bello che se almeno una è selezionata avete la possibilità di eliminare qua c'è un bottone con elimina quindi se ne selezionate una potete eliminarne una selezionate tutti ve le fa eliminare tutte ok e poi altrimenti se volete premendo effettivamente su una riga aprite un nuovo dialog in cui vi fa modificare effettivamente la roba e potete patchare come abbiamo già fatto la riga e i suoi dati questo è quanto poi cosa potreste fare in un'altra pagina semplicemente fate delle card quindi create un'altra collection di roba o se o continuate a usare questi dati qua la periodic table semplicemente aggiungetegli magari un link di un'immagine che mandate a schermo creando delle card quindi prendete le card prendete una cosa del genere ecco qua e mi mandate a schermo la definizione dell'elemento il suo la sua posizione la sua la sua sigla e poi magari un'immagine figa che prendete da google tutta con la galassia o con l'elemento insomma scegliete quello che volete però quello che mi interessa è che andate a mettere registrazione login logout qua andate a prendere questi dati dinamicamente li collegate alla quindi al get all'inserimento alla modifica e all'eliminazione e infine nella pagina 2 provate a fare la stessa cosa in realtà non mettete la modifica eccetera mi basta solo che prendete gli elementi e rimanate a schermo come card quindi con i vari ng4 che abbiamo già visto questo è il mio compito io vi ho portato fin qua e potete usare questa base chiaramente renderla un po più bella e interessante per i vostri prossimi progetti però ve l'ho spiegato perché poteva essere complesso da qua è tutto in mano vostra finite per favore l'esercizio c'è sotto in descrizione la mia community se volete mandare parlare tra di voi se avete problemi eccetera se volete mandare i vostri progetti spesso e volentieri messaggi riesco a leggerli anch'io quindi se poi mandate gli screen di quello che sta venendo io sono solo sono solo contento altro non ho da dire una volta che avete finito l'esercizio da lì in poi potete fare la vostra applicazione come la volete questo è quanto nel prossimo episodio vediamo come fare il deploy dell'applicazione quindi dobbiamo fare un po di passaggi per rendere questa applicazione che funziona da noi in locale ma magari metterla su netlify o altri servizi va bene sotto in descrizione trovate il link al secondo canale sito e come supportare il canale io vi ringrazio alla prossima ciao ciao